salve a tutti in questo primo video vi descrivo un sistema di autenticazione degli utenti a più fattori che non richiede alcun nome utente né indirizzo email né password ma con database scriptato sono uno sviluppatore web con parecchi anni di esperienza in campo informatico per qualunque vostre necessità di sviluppo applicativi web personalizzati non esitate a contattarmi senza impegno anche solo per informazioni troverete i miei contatti nella descrizione di questo video nella registrazione di un nuovo account possiamo scegliere un nome utente o inserire un indirizzo email o anche lasciare vuoto l'applicazione cercherà di riconoscere il nostro dispositivo per i successivi accessi per farlo ci richiede il consenso acconsentiamo e procediamo maggiori informazioni nella pagina di gestione dei consensi ci chiede anche il consenso per poter scrivere nel browser la parte della chiave di criptografia acconsentiamo la registrazione utente la creazione dell'account in realtà consiste nel generare una chiave di criptografia quella con cui saranno criptati eventuali dati nel database tenendo premuto questo pulsante verranno generate ripetutamente nuove chiavi la chiave però sarà valida solo se l'utente potrà successivamente recuperarla visto che non viene salvata in chiaro ed intera da nessuna parte sarà solo possibile ricostruirla quando necessaria utilizzando i dati salvati nel browser e nel server entrambi a loro volta criptati reciprocamente quindi procediamo col generare un primo sistema di recupero il qr code consiste in un file pdf in formato a4 pieghevole in 4 come se fosse un opuscolo che conterrà un qr code da legge successivamente con questa stessa app come vi mostrerò in un altro video ci chiede se vogliamo proteggere questo pdf con una password in questo test proveremo a mettere la parola prova 1 quindi lui genere il pdf adesso lo salviamo e proviamo a visualizzarlo ci chiede la password appunto rimettiamo prova 1 ed ecco il pdf è un a4 diviso in 4 una volta stampato infatti va piegato lungo le linee per farne un librettino contiene delle informazioni sommarie ma fondamentalmente il qr code torniamo alla web app e possiamo anche scaricare la versione immagine del qr code nei prossimi video vi mostrerò altre funzioni fin qui sviluppate vi invito a seguirmi per informazioni per lo sviluppo di vostre applicazioni web personalizzate non esitate a contattarmi i miei riferimenti li troverete nella descrizione a questo video alla prossima grazie